Quali sono state le tue emozioni e sensazioni adesso che è stata davvero l'ultima gara di Valentino? Essendo stata l'ultima gara le emozioni erano tantissime perché dopo 26 anni di gare, averlo vissuto praticamente sin da piccolo fino ad arrivare adesso che ho 36 anni, quindi una vita, sono state un sacco di emozioni. È stato bello il fatto che tutti i piloti dell'Academy l'hanno voluto omaggiare con le repliche dei suoi caschi più significanti e le emozioni erano tantissime, molto contrastanti perché c'era la gioia della festa ma anche la tristezza del fatto che smetteva di correre un grande pilota. Il ricordo più bello che hai di lui? Il ricordo più bello? Ce ne sono tantissime ma secondo me il ricordo più bello quando c'è stato il passaggio dalla Honda alla Yamaha che ha dimostrato che era lui che faceva vincere la moto e non la moto che faceva vincere lui. Ancora non ci sembra neanche vero che lui possa smettere di correre in MotoGP, per cui forse dal prossimo anno la cosa sarà diversa e ancora noi non riusciamo a farcene una ragione. All'interno dell'ultima gara è stata un'emozione continua perché l'abbiamo visto lottare come se lottasse per la prima gara perché ci teneva talmente tanto a far bene che ha dato dimostrazione che nonostante abbia una certa età e abbia deciso di smettere aveva un gran piacere di far bella figura e l'ha fatta perché ha girato con dei tempi quasi come quelli che sono arrivati davanti per cui ha dato dimostrazione che ancora è un grandissimo. È stato campione per 25-26 anni, oggi è chiuso, ha fatto un bel finale che nessun corridore ha fatto quello che ha fatto Valentino. È un onore per tutto, per tutta l'Italia, anche per tutto il mondo perché Valentino li volevano bene un po' tutti. Quando andavamo a vedere le corse al Mugello o a Misano il giallo era enorme mentre gli altri erano un po' più leggeri. Capito questo? Voglio dire che Valentino lo rispettavano un po' molta gente. Io sono contento di tutto quello e anche il paese di Tavuglia è stato molto contento di quello che ha portato Valentino a Tavuglia. Molta gente, molti turisti, è stato bello questi anni. Speriamo che continui ancora, lui non corre più, però Valentino ha un nome famoso, può darsi che la gente continui ancora a venire. Ci troviamo qui con un tifoso che è stato anche a Valencia, l'ultima gara ad assistere all'ultima gara di Valentino. Quali sono state le tue emozioni proprio per questo evento? Sempre, sempre per l'ultima gara da Valencia, per 12 anni sempre guida con i miei amici, con il papà, però questo per me è un po', come si dice, il triste. Però l'ultima gara, l'ultimo giro, tutte le persone a piangere, per me è molto difficile. Però, per fortuna, lui ha guidato tanti anni, molto bello, molto forte. E questo vicino, Valentino, sto vicino da me, con moto, con tutti i diffusi, stai con Valentino, però adesso è un po' triste, però c'è finito. E la pensione, però per fortuna non è esistente, adesso fai un bambino, è una famiglia adesso. Grazie.